Madonna mi ha fatto trovare in un letto pieno di sangue. Il demonio molte volte diceva queste espressioni. Teodagnone, puzza, puzza di santità. Questo frate è stato, tra virgolette, un assassino scappato da questo paese di Agnone. E' un colosso di santità che ha fatto piacere al Signore. E il Signore si è servito di lui per tanto tempo. Grazie a Padre Matteo il maligno è impotente contro la Madonna. Gli esercilmi regolarmente. Ti comandi il nome di Dio, rispondi la potenza di Padre Matteo. Intervieni in questo momento, quella persona si è bloccata di corpo. Noi lo invochiamo apposta, invocando Padre Matteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.